Sabato sono in programma alcuni anticipi del campionato di serie di Gilonea. Alle 14.30 allo stadio Necchi Balloni, la Real Forte Querceta riceve l'Orvietana, dopo la delusione con grosse recriminazioni della sconfitta sul campo della Pianese per 1-0 su un calcio di rigore per un fallo giudicato inesistente da parte del tecnico Francesco Buglio. I locali cercano quindi un riscatto e i tre punti contro l'Orvietana che ha perso 4-1 fra le Muramiche con il Poggi Bonzi e che si trova 5 punti sopra del Real Forte Querceta in classifica. Il Seravezza Pozzi è ospite del Trestina e cercherà di proseguire la striscia positiva delle due ultime settimane per risalire in classifica. Il Givivorgo ospita il Grosseto e questa diventa una partita delicata dopo il 3-0 subito con il Sandonato Tavarnelle. Gioca domenica invece il Tau Alto Pascio a Poggi Bonzi. Sabato alle 16 è previsto il recupero per il campionato di promozione per il Viareggio ospite del Monzummano per la prima delle due gare che devono recuperare i ragazzi di Stefano Santini che dovrà fare a meno ancora del centrocampista Samuale Pizza alle prese con un infortunio muscolare. L'altra è quella di mercoledì 27 alle 15 sul campo del San Piero a Sieve. Le Zebe ricordiamo che sono prime in classifica con due punti di vantaggio sul Pietrasanta che con l'avvento di mister Della Bona ha recuperato posizioni portandosi in alta classifica.